Parliamo di calcio di Serie C, di Coppa Italia. Domani alle 20.30 si gioca la partita Catania-Pescara, i quarti in gara secca, ma c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda l'allenatore Biancazzurro Zeman. In diretta qui accanto a me in studio c'è Massimo Profeta. Chiedo subito come sta Zeman, cos'è accaduto? Allora, con tutto questo, tra l'altro è stato diramato un pubblicato dal club, lo possiamo vedere perché lo abbiamo pubblicato naturalmente sul nostro sito www.rteotto.it. Malore per Zeman, al momento condizioni buone e stabili, prima della consueta seduta di rifinitura. Domani, come hai detto bene tu, c'è la Coppa Italia a Catania ore 20.30. Zeman ha accusato un leggero malore che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemia transitoria e per questo motivo è stato ricoverato nella clinica Perangeli di Pescara. La delfino Pescara naturalmente ci tiene a comunicare che le condizioni di Zeman sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso. Quindi domani sicuramente non andrà in panchina, sarà sostituito dal suo vice Giovanni Bucano. Naturalmente auguriamo a Zeman di rimettersi in sesto nel più breve tempo possibile. Che partita sarà Catania-Pescara? Beh, una partita importante perché sono i quarti di Coppa Italia. La Coppa Italia permette in caso di vittoria di superare i primi due turni dei play-off, di accedere direttamente alla fase nazionale e quindi agli ottavi. Quindi è una gara rilevante per il Pescara ma anche per lo stesso Catania. Il Catania gioca in casa. In caso di parità novantesimo, tempi supplementari e eventuali calci di rigore. Possiamo dare uno sguardo alla schermata. Probabile formazione che sarà schierata al massimino di Catania. Aplizzari tre pali, Floriani per la Cani, Messic e Milani in difesa. Tugnov, D'Agassio e Aloy a centrocampo. Merola è a Cornero in attacco, supporto di Tommasini. Quindi una sostanziale novità rispetto all'ultima formazione schierata con l'Olbia. Olbia che è stata travolta per 4-0. Non dovrebbe giocare Cuppone. Al suo posto Tommasini, naturalmente siamo nel campo delle supposizioni. Vediamo invece il Catania. Catania che è stato affidato da 5 partiti a Cristiano Lucarelli. Che ha sostituito Tabbiani poco meno di un mese fa. Una sorta di 4-2-3-1 con Betters tre pali. In difesa l'ex L'Aquila Rapisarda. Poi Curado, Lorenzini e Castellini. A centrocampo i due miliani sono Quaini e Zammarini. Davanti Chirico e Bocic, uno degli ex esterni. Con Rocca tra le linee alle spalle del lituano Dubikas. Ricordiamo che Catania non è un campo così amico, per così dire, dei colori biancazzurri. Perché in 14 sfide disputate in Sicilia il Pescara ha vinto soltanto una volta un solo blitz nel lontano 1981. Era il Pescara di Aldo Agroppi che si impose 1-0 grazie al gol di un cannoniero importante dell'epoca Massimo Silva. Nelle ultime sette partite un solo pareggio. Nel 2002 in Serie C 0-0 e ben sei sconfitte consecutive.